Musica Per la tutela del Santa Croce e l'abbattimento delle liste d'attesa si tinde progressisti in piazza Miani a Fano Delitto Anastasia ieri al Tribunale di Pesaro l'ultima sentenza fissata per il 24 settembre la sentenza a carico di Mustafa Alashri Incidente sulla strada provinciale 43 giovane ciclista investe e uccide un cane sul posto l'eliambulanza per soccorrere il ciclista Arte Ora a Fano presentati due corsi dedicati italiani e stranieri per perfezionare le conoscenze nel settore del gioiello d'artista e dell'accessorio fashion Al via al Lido di Fano la 22esima edizione del prodetto Fest tanti appuntamenti fino a domenica 2 giugno tra cookie show, divertimento e laboratori Nel fine settimana al via il sesto concorso Canoro sulle note della fortuna quattro i cori delle classi primarie classificati provenienti da Fano, Pesaro, Cattolica e Biella Pedalo pattina con Mauro per un mare di solidarietà Partirà il 15 giugno la sfida di Guenci per aiutare l'associazione disabili no limiti Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV In apertura la politica con l'incontro pubblico svoltosi ieri in difesa della sanità e dell'ospedale Santa Croce di Fano Sentiamo di più nelle due interviste realizzate da Massimo Foghetti Dottoressa Gabriele, lei ha vissuto questa esperienza dal di dentro del Santa Croce Come vede attualmente la situazione? Allora c'è stato un degrado lento e progressivo nella qualità dell'offerta e nella quantità dell'offerta che era iniziata con l'arrivo del blocco a 5 anni dei primari e che poi si è ancora di più manifestata con l'idea dell'ospedale unico che durante la precedente consigliatura a Ceriscioli aveva già detto che non sarebbe mai potuto esistere per non danneggiare Ancona e quindi di qui la forza maggiore di Pesaro che ha svuotato piano piano e saggiamente l'ospedale di Fano delle sue competenze per trasferirle a Pesaro lasciando a Fano le vestigia, le mura e poco più Poi naturalmente è arrivato un centro-destra, destra-centro come vogliamo dire che sulla falsariga di quello che aveva voluto la precedente amministrazione di sinistra ha potuto dire bene si fa un unico ospedale a Pesaro con posti letto aumentabili potenziamo grandi ospedali quali quelli di Pergola e di Cagli a detrimento di Fano Dottor Carlo De Marchi, esponente storico di bene comune a suo tempo ha combattuto anche l'ospedale unico la responsabilità della regione Marche Ora, questa situazione che costituisce la novità del progetto regionale come viene valutata? Ci troviamo di fronte a una realtà che era stata determinata dalle giunte Cerisoli e prima ancora dell'altro assessore che avevano portato a fare questa scelta che noi fin dall'inizio, nel 2009, abbiamo in qualche modo cercato di spiegare più che di ostacolare che era in qualche modo non corretta sia dal punto di vista territoriale perché era uno spazio che non teneva conto che la vallata veniva sguarnita non teneva conto a punto di vista economico che c'era stata la proposta del project financing se ci pensate che avrebbe portato questo costo di questo ospedale a quasi un miliardo così come non c'era un piano anche che teneva conto che una volta che io chiudo una serie di piccoli ospedali nel territorio consapevolmente alla necessità di innovazione dal punto di vista delle tecniche mediche le tecniche terapeutiche però sguarnivi un territorio di quello che era il rapporto diretto e territoriale e una continuità terapeutica nel territorio che si trovava improvvisamente sguarnito così poi è avvenuto la chiusura degli ospedali non sono stati sostituiti da nulla il problema qual è? che una volta che il centro-destra anche a seguito delle manifestazioni che i movimenti e le associazioni in quegli anni hanno fatto in tutta la provincia il centro-destra è arrivato in regione applica questa nostra idea che avevamo detto di sospendere nei limiti del possibile il progetto dell'ospedale unico ma di fatto non cambia nulla la sanità ancora alla ribalta di questa campagna elettorale la fanno che vogliamo affrontato questo problema in un flash mob nel pieno corso cittadino il passeggio viene attratto da questi manifesti che sono le nostre spalle Gianluca Cespuglio qual è la sanità che vuole la fanno che vogliamo? Innanzitutto una sanità che mantenga l'ospedale Santa Croce a Fano senza sé e senza ma questa iniziativa è stata mosso dalla gente che in questi giorni sente tante tribune tanti dibattiti ma ci sta capendo poco purtroppo noi stiamo perdendo nella nostra sanità fanese e questi cittadini devono capire che è molto importante muoversi adesso per fare che si salvi insomma che sia presente un'iniziativa voluta anche da tutti i lavoratori sia diciamo infermieristici che primari dell'ospedale che purtroppo non possono esporsi e questo è un grave è un momento molto brutto perché pur tenendo al proprio ospedale il proprio luogo di lavoro non possono dire la loro dunque ci abbiamo messo nella faccia molto volentieri e speriamo che la cittadinanza di Fano recepisca questo messaggio dobbiamo lottare per mantenere il nostro ospedale a Fano Michele Mattioli dell'alleanza Verdi-Ribella è intervenuto sulla variante di Gimara attaccando Fanesi e dando la sua ricetta per migliorare la viabilità sentiamo siamo proprio di fronte alla fine dell'interquartieri è la fine di un progetto che l'assessore Fanesi ha portato avanti con testardaggine infischiandosene del parere dei cittadini che non volevano affatto che l'interquartieri terminasse sulla nazionale andando a distruggere gran parte delle colline di Gimara un'area verde a cui i fanesi tengono molto e lui non è riuscito in questo intento ha perso 20 milioni di euro che se non si fosse in testardito sarebbero potuti essere utilizzati per altre parti della città per esempio per Fano Sud o anche per provare a cominciare a collegare i due casellini che entreranno in funzione di qui a poco e che speriamo possano aiutare la circolazione verso Pesaro di sicuro non avrebbe aiutata la fine dell'interquartieri che sarebbe giunta a qualche centinaia di metri da Gimarra sulla nazionale occorre però trovare una soluzione all'isolamento di Gimarra un quartiere nato male che ha l'obbligo per i residenti di finire sulla nazionale ma che invece con un passaggio sull'Arzilla potrebbe collegarlo con la zona della trave questo darebbe a loro la possibilità di sentirsi meno isolati e di collegarli di più con il centro della città e in occasione delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno vi ricordo che mercoledì 5 giugno trasmetteremo in diretta dai nostri studi il confronto finale con i tre candidati a sindaco della città di Fano Cristian Fanesi Stefano Marchegiani e Luca Serfilippi appuntamento sul canale 19 di Fano TV il 5 giugno dopo le ore 21 ora la cronaca si è svolto ieri al tribunale di Pesaro l'ultima udienza per l'istruttoria del processo che vede Mustafa Lashri accusato di omicidio volontario aggravato nei confronti della moglie Anastasia quest'ultima una giovane mamma 23enne era stata uccisa con 29 fendenti il 13 novembre 2022 in un'abitazione a Fano ieri è stato ascoltato il medico che ha visitato Mustafa in carcere a Bologna e per il prossimo 24 settembre 2024 è prevista la sentenza un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo la strada provinciale 45 tra località Maggiotti e Fenile a cavallo tra Pesaro e Fano un giovane ciclista che si stava allenando con il resto della squadra ha colpito un cane di taglia media portato in quel momento a passeggio regolarmente al guinzaglio dalla sua proprietaria per l'animale colpito non c'è stato nulla da fare mentre per il ciclista un ragazzo fanese è stato necessario l'intervento dell'egliambulanza per il trasporto ad Ancona sul posto è intervenuta anche la polizia locale una sofisticata rete di frode fiscale con epicentro a Catania è stata svantellata dalla guardia di finanza nell'operazione denominata alto livello l'operazione ha portato all'emissione di due ordinanze cautelari che coinvolgono 16 persone dislocate in diverse città italiane come Catania Siracusa Ragusa Enna Palermo Milano Brescia Roma e Pesaro nella città pesarese così come in altre città sequestrati beni quote societarie e disponibilità finanziarie l'inchiesta coordinata dalla DDA direzione distrettuale antimafia della procura di Catania vede complessivamente 33 persone indagate il sistema fraudolento bloccato dalla guardia di finanza sfruttava in maniera illecita i vantaggi normativi legati al distacco di personale previsti per i contratti di rete tra imprese i reati a vario titolo contestati sono emissione di fatture per operazioni inesistenti infedele dichiarazione dei redditi ma anche associazione a delinquere e autoriciclaggio e riciclaggio di denaro di origine illecita si svolgeranno domani venerdì 31 maggio alle ore 15 presso la parrocchia Santa Maria annunziata di Morciola i funerali di Simone Mezzolani l'operaio 33enne che ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro in una fabbrica di Petriano cambiamo argomento la foto che mostriamo in questo momento è di un telespettatore che segnala la presenza della ghiaia alla foce del torrente Arzilla in caso di piena ha scritto il telespettatore la ghiaia andrebbe a costruire il deflusso dell'acqua è necessario un intervento in prefettura a Pesaro nei giorni scorsi sono stati premiati gli studenti che hanno descritto le bellezze del territorio durante le giornate FAI a partecipare al progetto oltre 400 studenti di 24 scuole per ringraziare per ringraziare il FAI perché questo è il terzo anno gli studenti degli istituti scolastici della provincia di Pesaro Urbino protagonisti delle giornate FAI di primavera circa 400 studenti in qualità di ciceroni hanno affiancato la delegazione nelle visite ai luoghi aperti a cittadini e turisti si tratta di una collaborazione ormai consolidata tra il FAI e le scuole del territorio è una collaborazione che risale nel tempo quindi non siamo diciamo alle prime prove sicuramente è nato in seno al FAI nazionale e noi ultimamente facciamo sempre riferimento al covid quindi nel post-covid ci siamo ripromessi di fare ridecollare appunto questa esperienza è un'esperienza bellissima perché ci mette a contatto con i giovani con gli studenti di tutte le scuole della provincia in particolare un progetto che nasce con un periodo di formazione per i tanti studenti che decidono di partecipare alle giornate FAI un'esperienza apprezzata dagli alunni e che permette una crescita personale e culturale si impara sicuramente ancora di più ad amare il proprio territorio ci si sente responsabili perché sono loro questi giovani ciceroni che illustrano agli adulti appunto la storia alle particolarità alle bellezze dei nostri monumenti del nostro paesaggio e quindi sicuramente può essere qualcosa che accompagna un ricordo bellissimo secondo me per loro ma anche qualcosa che nel futuro li accompagnerà anche nelle scelte che potranno fare nei loro studi e comunque diciamo il primo momento per capire che poi prenderanno loro in carico questo patrimonio e dovranno diciamo così portare avanti un po' le attività che stiamo facendo noi oggi gli studenti che hanno partecipato al progetto targato FAI sono stati premiati con un riconoscimento durante una cerimonia svoltasi in prefettura sono stati bravissimi questi studenti tra l'altro di età diversa effettivamente hanno saputo rappresentare e raccontare tutti i nostri monumenti più importanti io ne ho visti alcuni tipo nella chiesetta nel nome di Dio ma anche in prefettura abbiamo acquisito un sacco di informazioni che prima non sapevamo quindi ragazzi bravissimi ma bravi soprattutto quelli dell'organizzazione del FAI e anche i docenti che li hanno preparati quindi ben vengano queste giornate tra l'altro noi abbiamo avuto qui delle file lunghissime fuori dalla prefettura che volevano entrare sono entrati hanno potuto ammirare questo patrimonio bellissimo che è il nostro palazzo Ducale quindi sono assolutamente favorevole a queste giornate io ho fatto il FAI da tre anni ormai quindi da quando faccio la terza superiore e nelle varie ville dei dintorni quindi siamo stati a Villa Miralfiore a Villa Severi insomma quindi nei dintorni di Pesaro e quest'anno faccio il quinto anno quindi forse l'ultima ma forse continuerò come volontario FAI è bello parlare fin da bambini agli altri di cose che abbiamo nei nostri luoghi quindi è importante saper parlare di cose fin da bambini da noi sono venuti appunto a chiedere chi è che volesse partecipare a questa esperienza a me comunque piace molto anche il parco Miralfiore che ci hanno appunto spiegato che noi avremmo presentato quello e quindi mi sono appunto offerta per questa esperienza che secondo me sarebbe stata molto educativa e appunto è stato molto bello per me che mi ha appunto aiutato anche a conoscere meglio il mio territorio e questo è per me il terzo anno in cui ho avuto modo di partecipare alle giornate FAI di primavera ma anche di autunno è stata un'occasione molto importante per poter approfondire le nostre conoscenze e allo stesso tempo anche entrare in contatto con i visitatori a cui condividere la nostra passione e far conoscere dei luoghi che sono diciamo al di fuori del percorso canonico di visita di una città come Urbino ma che allo stesso tempo contengono dei tesori e delle opere molto importanti e interessanti per il nostro territorio Confcommercio Marche Nord è da sempre attenta a tematiche importanti come la disabilità e nei giorni scorsi ha organizzato un convegno per parlare della proposta di legge che vuole colmare un vuoto normativo a proposito della disciplina dell'ingresso dei disabili a concerti spettacoli ed eventi sportivi sentiamo Confcommercio Marche Nord è organizzatore e promotore di questo progetto di legge perché stasera assume la veste nuova sicuramente conosciuta come una garante dei diritti dell'imprenditore e anche molto attenta allo sviluppo economico e turistico della nostra provincia della nostra regione stasera vestiamo una veste nuova che è quella di essere garanti dei diritti legati alla disabilità ma in realtà è una veste che abbiamo avuto già tante altre volte perché riteniamo che Confcommercio debba avere un ruolo di collante sociale un aggregante sociale che possa permettere a tutti di avere i stessi diritti quindi promuovere quelle leggi o proposte di leggi che permettano l'abbattimento delle barriere non solo architettoniche ma anche digitali e quindi anche fisiche stasera quindi siamo qui con due giganti che sono due testimonial legati a superare i limiti a superare le proprie barriere a superare i propri limiti che sono appunto Ivan Cottini e Giorgia Righi che assieme a noi non solo renderanno pubblica questa proposta di legge ma ci daranno dimostrazione di come sia facile poter superare i propri limiti di come non ci dobbiamo abbattere davanti alle difficoltà ma continuare e superare quelle che sono le difficoltà iniziali quindi sicuramente Confcommercio non poteva che essere organizzatrice e promotrice di questa iniziativa e ci auguriamo che questa sera dopo aver lanciato la petizione tutti quanti assieme riusciremo a firmarla e a portarla a livello nazionale sono felicissimo di essere qui e partecipare a questa apertura di questa proposta di legge ma la legge è semplice prevede una regolamentazione per tutti gli eventi pubblici di svago che possono essere i concerti eventi teatrali perché ancora ad oggi in Italia rispetto ad altri paesi non c'è una regolamentazione cioè praticamente ogni organizzatore fa un po' come cavolo gli pare e quindi immaginate i disagi ogni volta sia per noi con una disabilità sia anche per i nostri accompagnatori e quindi i disagi sono sempre tanti e sempre di più quindi ci vuole una regolamentazione delle regole uguali per tutti un disciplinare e quindi meno disagi e più inclusione finalmente è un tema in Italia ancora siamo molto indietro in Italia purtroppo rispetto a tanti altri paesi europei siamo sempre indietro però questo io sono sempre fiducioso e speriamo che si incomincia a fare un pochino di più non dico tantissimo ma un pochino di più a Fano quest'oggi sono stati presentati i due corsi dedicati all'arte orafa sentiamo di più nel prossimo servizio di Filippo Pucci l'Accademia d'arte ora fa di Fano in collaborazione con il liceo Nolfi Apolloni organizza dei corsi estivi riservati a persone maggiorenni italiani e stranieri che intendono perfezionare il loro bagaglio di conoscenze nel settore del gioiello d'artista e dell'accessorio fashion nel corso di una conferenza stampa questa mattina sono stati presentati i corsi 2024 quest'anno è il secondo corso del gioiello d'artista in pratica questo corso si realizza nel liceo artistico Apolloni di Fano e va a mettere in evidenza questa grande realtà fanese sul gioiello d'artista contemporaneo abbiamo avuto la grande tradizione di Mannucci che ha portato i grandi maestri Burri abbiamo avuto poi Giorgio Efachini ma abbiamo avuto Arnaldo Pomodoro che al TAM di Pietrarubbia ha realizzato la scuola internazionale del gioiello quindi Fano vorrebbe riprendere questo momento della scuola internazionale del gioiello per arrivare ad avere una situazione inedita e contemporanea sul gioiello d'artista due le serie di lezioni che quest'anno si svolgeranno il primo dall'8 al 13 luglio con il corso base Experience anche quest'anno andremo a ripetere l'esperienza positiva dell'anno scorso quindi dall'8 al 13 luglio faremo un workshop un corso Experience per i ragazzi che escono dalla scuola d'arte quindi i neodiplomati che vogliono approcciarsi al mondo del gioiello approfondire le tematiche del gioiello artistico quindi andremo a vedere e a conoscere la storia ora fafanese e a provare proprio a mettere in pratica quelle che sono le tecniche artistiche artigianali che abbiamo sviluppato a Fano in collaborazione con la KN Academy saranno presenti anche delle ragazze cinesi che vedranno quindi il valore del nostro artigianato il totale nel corso dovrò esserci circa 15 ragazzi possiamo gestire fino a 15 ragazzi di cui saranno 5 o 6 cinesi il restante dei posti invece è tutto a disposizione per i ragazzi italiani o faninesi mentre il secondo dal 14 al 22 settembre con il corso Metal dedicato a chi ha una formazione didattica e pratica della lavorazione dei metalli nobili Metal è un corso sperimentale in design del gioiello che vuol far dialogare l'arte contemporanea e il gioiello d'autore quindi la ricerca creativa nel mondo del gioiello sarà presente un guest artist sulla cui opera i partecipanti del corso dovranno ideare e poi creare un gioiello verranno utilizzate molte tecnologie innovative contemporanee sia nella creazione che nell'ideazione del gioiello quindi ci sarà in gioco l'intelligenza artificiale le visual arts la stampa 3D e poi la creazione del laboratorio dei gioielli ideati dai partecipanti è iniziata oggi la 22esima edizione di Brodetto Fest il festival internazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce ideato da confesercenti Pesaro e Urbino che si svolge sul lungomare Simonetti da giovedì 30 maggio fino al 2 giugno oggi dopo il taglio del nastro sono previsti spettacoli di cucina con lo chef Alessandro Circello e l'incontro con l'attore e icona del cinema italiano Sergio Rubini in serata in programma una degustazione e la consegna del premio lanterna azzurra Fano nel corso del festival sarà possibile visitare la mostra fotografica di Viale Cairoli ma anche laboratori creativi dedicati ai più piccoli è possibile consultare il programma completo sul sito a brodettofest.com si è svolta la Rocca Malatestiana la terza edizione del meeting di Ruggeri Pirandello quest'anno incentrato sulla figura di Enrico IV il servizio è di Esther Musco anche quest'anno Fano diventa centro di sperimentazione e studio di quel rapporto osmotico che caratterizzò l'unione di Luigi Pirandello e Ruggero Ruggeri dopo circa 70 anni della sua scomparsa la figura di Ruggeri riecheggia vivida e molto attuale tanto da confermare per il terzo anno consecutivo il meeting organizzato alla Rocca Malatestiana la scorsa settimana uno degli appuntamenti più attesi e ricchi di contenuti attorno ad una delle più importanti figure nello scenario artistico e intellettuale del Novecento Fano tenta di rivitalizzare da una parte e anche di rivivere quello che è il senso del teatro di Ruggeri e di Pirandello Enrico IV è il centro proprio di questo meeting che questa mattina alla Rocca Malatestiana ha visto l'incontro di performer l'incontro di video artisti l'incontro di attori l'incontro di chi vive sostanzialmente quello che è il senso dell'arte cinema teatro arti figurative e soprattutto quello che è la produzione vista con gli occhi delle nuove generazioni è il senso del festival cioè il rapporto follia e pazzia è difficile distinguere le due cose uno dal punto di vista della malattia psichiatrica dall'altro invece è qualcosa che riguarda la società quello che viene considerato il folle il creativo ed è questa la bellezza di un meeting che cerca sempre di più di trovare attraverso le fonti storiche quelle che sono le rigenerazioni i giovani che vedono tutte queste produzioni che appunto il festival ha fatto fin da 1922 con la grande azione di dare la possibilità ai giovani di emergere nel campo della recitazione quindi Hunter 30 a giovani che oggi sono qui ritornati alla rocca malattestiana con la possibilità di pensare che un domani ci sia un'altra tappa ma la bellezza appunto di questa operazione è il fatto che dà la possibilità anche agli artisti di intervenire sul piano pittorico sul piano performativo e per questo che diamo spazio questa iniziativa e coloro che hanno portato avanti questo progetto in particolare la fondazione Cassa degli Spalmio la BCC di Fano il comune di Fano la regione Marche e l'Accademia delle Arti di Urbino coloro che hanno portato avanti questo progetto penso che abbiano avuto la soddisfazione di vedere che è vivo che non solo guarda alla matrice storica del Novecento ma soprattutto è formalmente individuata una meta quella di dare la possibilità ai giovani di avere una potenziale produzione di teatro proprio qui a Fano dove appunto è nato Ruggero Ruggeri l'attore ideale di Pirandello è proprio la presenza fisica credo che dia la prova tangibile che la fondazione è vicina a progetti di questo tipo è il terzo anno che noi sosteniamo Ruggero Ruggeri e Pirandello peraltro una compiata vincente nei miei ricordi da ragazzo quando tutti mi dicevano che era Fanese la voce del Padre Eterno che parlava a Don Camillo voglio dire quindi per ricordare proprio delle piccolissime cose a cui ogni Fanese tiene il sostegno che la fondazione del cui consiglio io faccio parte a queste iniziative lo darà sicuramente sempre e oggi era quasi percettibile anche la voce quasi nasale di Ruggero Ruggeri ma ancora vivida nei nostri ricordi sì è vero e quindi c'è una forma di emotività ancora maggiore voglio ricordare che comunque la fondazione nel suo palazzo Bracci Pagani ha all'interno la stanza dove è nato proprio Ruggero Ruggeri si svolgerà l'1 e il 2 giugno al Teatro di Fano il sesto concorso Canoro sulle note della fortuna 4 i cori delle classi primarie classificati convenienti da Fano Pesaro Cattolica e Biella organizzato dall'associazione tra le note torna a Fano il concorso sulle note della fortuna arrivato alla sesta edizione l'evento musicale si svolgerà l'1 e 2 giugno ed è un corso Canoro nazionale per cori delle scuole primarie che dopo aver presentato un brano inedito sono state selezionate da una giuria qualificata formata da Elisa Ridolfi Andrea Alessi Paolo De Lorenzi Francesco Gazzè e Massimiliano Fiorani l'appuntamento si svolgerà al Teatro della Fortuna il concorso ospiterà quattro cori che risultano già vincitori e sono il coro I Leopardini di Pesaro il coro Voci di Corridoio della Scuola Gentile il coro Incantare di Cattolica il coro di Bologna che appunto risultano vincitori di una borsa di studio e vincono la partecipazione alla finale del concorso il concorso nasce e cresce in collaborazione con la fondazione Teatro ha il patrocino e la partecipazione della regione Marche ed è in collaborazione con il comune di Fano nei vari assessorati alla cultura al turismo ai servizi educativi cremi eccetera unico in Italia il concorso vanta l'accompagnamento musicale dei cori da parte di un'orchestra giovanile che è la Mosaico diretta dal maestro Gian Gambini la manifestazione verrà trasmessa in diretta tramite il canale Youtube dell'associazione sia a tutta la città ma soprattutto poiché i posti sono limitati sia per i bambini che occuperanno tutto il teatro ma anche per gli accompagnatori che occuperanno tutto il cinema teatro Politeam appunto in diretta sul canale Youtube dell'associazione per cui seguiteci ci spostiamo a Sorbolongo una frazione di Sant'Ippolito dove sabato e domenica torna la Sagra della Lumaca giunta alla 49esima edizione sentiamo i dettagli nella prossima intervista quest'anno 49esima edizione della Sagra della Lumaca e 10 anni della tua presidenza si ci siamo siamo arrivati alla 49esima edizione di questa Sagra della Lumaca con i miei 10 anni da presidente e dai è stata una decisione un po' difficile ma con la grande partecipazione che abbiamo avuto l'anno scorso non potevamo che non ripeterla Debora anche quest'anno un ricco programma a base di cultura gastronomica ma non solo sì abbiamo i nostri stand con un ricco menu sia a base di Lumaca ovviamente ma cerchiamo di accontentare un po' tutti i gusti quindi tutti i prodotti del nostro territorio e poi avremo anche tante animazioni da dei gruppi abbiamo le orchestre abbiamo il DJ abbiamo un altro gruppo sempre che su nel castello e abbiamo anche tanti intrattenimenti per i bambini e anche per gli adulti abbiamo un laboratorio di Creta quindi un po' per tutti i gusti anche quest'anno è previsto un servizio di navetta? sì abbiamo un bus navetta che ci accompagnerà proprio sotto il castello quanto è importante per la riuscita di un evento come questo la forza di una comunità e di tutto il volontariato che è dietro a questo evento ma è fondamentale soprattutto nei paesini come i nostri che le forze sono sempre minori e quindi dai con la collaborazione di tutti riusciamo a portare avanti queste manifestazioni qual è l'ingrediente segreto di successo di questo evento? posso dirlo essere un pochino folli perché comunque implica tanto impegno e sicuramente tanta passione e amore per il proprio paese ricordiamo le date 1 e 2 giugno vi aspettiamo che offriamo anche un bellissimo panorama e adesso vi raccontiamo della sfida di Mauro Guenci di Senigallia che pattinerà per ben 1300 chilometri attraversando varie regioni in compagnia di coloro che vorranno unirsi a lui in questa avventura il ricavato dell'acquisto della maglietta ufficiale sarà devoluto in beneficenza ad un'associazione che si occupa di disabilità a realizzare il logo uno studente del Polo 3 di Fano Simona Zonghetti Una sfida personale che è diventata una sfida della solidarietà dove tutti gli amanti dello sport del ciclismo del pattinaggio possono essere protagonisti come è nata l'idea e che cosa prevede questa avventura? L'idea è nata un po' di tempo diciamo che ci penso in futuro sarà come si sa la ciclovia adriatica che sarà la ciclovia più lunga d'Europa di oltre 1300 km considerando che una buona parte già è realizzata ho pensato di anticipare un attimino i tempi e di cercare di percorrerla nel miglior tempo possibile E come si svilupperà questo progetto? Quando partirà? La partenza è prevista per il 15 giugno da Trieste e Piazza d'Italia per giungere a Santa Maria di Leuca sempre costeggiando possibilmente tutta la riviera adriatica dove c'è la maggior parte della ciclovia e diciamo le tappe abbiamo stabilito dalle 11 alle 13 tappe massime in relazione anche alle situazioni meteo e quello che la natura ci può offrire o ci può dare cercherò di effettuare questa impresa nel minor tempo possibile comunque nel minor orario possibile è una velocità che ci consenta di fare questi 1300 chilometri in poco tempo se qualcuno volesse unirsi come può fare dove può prendere maggiori informazioni sulle varie tappe? giornalmente comunicheremo via social sicuramente con video e con comunicati stampa e quant'altro la situazione dove saremo cercheremo di essere più precisi possibile per gli orari perché poi sia i patinatori che i ciclisti quanti vorranno seguirmi per i chilometri che ci sono a disposizione possono farlo anche voglio dire sono molto contento se mi assistono e mi ritengono un po' compagnia e lo sport in questa iniziativa come verrà coniugato alla solidarietà? semplicemente abbiamo avuto l'idea di creare delle magliette con logo che verranno messe in vendita sia dall'associazione sia dalle varie regioni eccetera che vengono acquistate a prezzo di 10 euro e in pratica quei 10 euro parte del ricavato va devoluto in beneficenza all'associazione di Giussi Versace che si chiama Disabili No Limits che è stata creata nel 2011 come sarà possibile acquistare la maglietta? stiamo organizzandoci per l'acquisto di questa maglietta logicamente innanzitutto metteremo il numero di telefono dell'associazione a cui va in beneficenza e quindi gestiranno loro le cose ma vogliamo fare più punti durante il percorso dove si può acquistare la maglietta professoressa come è nata la collaborazione con Impolo 3? è nata tramite Marcello Malizia il quale ci ha presentato il progetto nella ideazione di un marchio logotipo che la nostra scuola avrebbe dovuto creare appositamente per questa iniziativa solidale che è appunto legata a Mauro Guenci e l'iniziativa ha visto gli studenti della classe terza S fare questo lavoro nella quale si sono cimentati attraverso ricerche ma soprattutto realizzando ipotesi ed idee che sono tra le quali si è rivelata quella migliore quella del ragazzo Giovanni Luzzietti per questo marchio che ho realizzato mi sono ispirato alla natura e ho cercato di essere minimal e di realizzare un marchio molto semplice e allo stesso tempo moderno quindi mi sono concentrato sulle tre iniziali del titolo stesso di Adriatic Circular Skates abbiamo la lettera A che sta a indicare una freccia quindi l'indirizzamento l'andare avanti la direzione al centro abbiamo una C che sta a indicare il roll stesso del pattino con sopra una bicicletta e per ultimo abbiamo la lettera S che sta a indicare una pista ciclabile color blu perché in Italia spesso le piste ciclabili sono di color blu e ho scelto questo colore anche perché sta a indicare il mare quindi evidenziare anche l'aspetto della natura dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire trasmetteremo un approfondimento in studio con Davide Del Vecchio candidato al Consiglio Comunale di Fano con Fratelli d'Italia poi seguirà uno speciale organizzato dalla Fondazione Carifano dal titolo Il Crowfunding una risorsa per il terzo settore ed infine la replica dell'approfondimento con Massimo Seri candidato alle europee per azione termina qui il nostro telegiornale grazie per l'attenzione e buon proseguimento su Fano TV